E se ti dicessi che la chiave per una salute migliore è a portata di mano, immagina di svegliarti ogni mattina sentendoti rinfrescato e pieno di energia, sapendo che la tua bevanda mattutina nutre il tuo corpo dall'interno. In questo video scopriremo 5 ingredienti che, aggiunti al tuo caffè, possono migliorare notevolmente la tua salute e il tuo benessere. Questi ingredienti possono rafforzare il sistema immunitario e disintossicare gli organi, offrendo numerosi benefici per la tua vita quotidiana. Questi ingredienti sono facilmente reperibili e convenienti, rendendo semplice integrarli nella tua routine quotidiana. Basta una semplice modifica alla tua bevanda mattutina per ottenere effetti profondi sulla tua salute, integrando questi semplici ingredienti naturali nel tuo caffè puoi migliorare significativamente il tuo stato di salute. Partendo dal tipo di caffè tra arabica e robusto, ti svelerò quali sono i 5 ingredienti da aggiungere alla tua tazza per migliorare notevolmente la tua salute e il tuo benessere giornaliero. I chicchi di caffè arabica, celebrati per i loro sapori delicati e aromi sfumati, incarnano un senso di purezza e chiarezza. Considerati la migliore varietà di caffè, offrono un gusto morbido e una bassa acidità, elevando l'esperienza del bere caffè. Questo profilo di sapore raffinato riflette la purezza del cuore e la chiarezza della mente ricercate nella pratica zen. Oltre alle loro qualità sensoriali, i chicchi di arabica contengono caffeina che può contribuire alla prontezza mentale e alla concentrazione. Integrando il caffè arabica nei nostri rituali quotidiani, ci impegniamo in una pratica che non solo delizia le papille gustative, ma supporta anche la funzione cognitiva e il benessere mentale complessivo. I chicchi di caffè robusta, con il loro sapore audace e l'alto contenuto di caffeina rispetto all'arabica, incarnano una connessione tangibile tra mente e corpo. I chicchi di robusta, noti per la loro robustezza, simboleggiano questo spirito, permettendoci di affrontare le avversità con coraggio e risolutezza. Ogni sorso diventa una meditazione sulla determinazione e sul coraggio di perseverare di fronte agli ostacoli. Inoltre, l'alto contenuto di caffeina del caffè robusta offre energia e resistenza fisica. Così diventa non solo una fonte di sostentamento fisico, ma anche un catalizzatore per la forza interiore e la resilienza. Integrando il caffè robusta nei nostri rituali quotidiani, onoriamo il suo spirito vigoroso e abbracciamo gli insegnamenti del Buddha e della filosofia Zen. Con ogni tazza, risvegliamo il coraggio e la resilienza che sono intrinseci in noi, permettendoci di affrontare le sfide della vita con determinazione e pace interiore. Le bacche di vaniglia, con la loro fragranza delicata e rilassante, offrono serenità e conforto. La loro presenza invita a rallentare e a trovare conforto nel momento presente. L'aroma della vaniglia può abbassare la pressione sanguigna e ridurre l'ansia, contribuendo alla salute del cuore. Integrando la vaniglia nei rituali quotidiani, si sottolinea l'importanza di momenti di tranquillità e armonia nelle vite frenetiche. La vaniglia ci ricorda di fare una pausa, respirare e riconnetterci con noi stessi e con il mondo, incarnando l'essenza della tranquillità e dell'armonia. Nella filosofia zen, la polvere di cannella è un alleato potente, offrendo calore speziato e benefici terapeutici. La cannella risveglia i sensi e infonde vitalità e gioia. Con proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche, supporta il sistema immunitario e la digestione, promuovendo un equilibrio armonioso del corpo. Integrando la polvere di cannella nei rituali quotidiani, onoriamo la sua saggezza antica e il suo potere trasformativo. La cannella incarna l'essenza della filosofia zen, offrendo guarigione e equilibrio e accendendo la vitalità interiore per una vita piena di gioia e armonia. La noce moscata, con il suo fascino esotico e il suo aroma inebriante, ci invita ad abbracciare la bellezza e il mistero dell'esistenza. La sua dolcezza sottile e il profumo mistico risvegliano lo spirito e evocano un senso di riverenza per i segreti dell'universo. Negli insegnamenti buddhisti, la noce moscata è ritenuta benefica per l'umore, alleviando potenzialmente depressione e ansia. Integrandola nei rituali quotidiani, si promuovono cura di sé e consapevolezza, nutriendo lo spirito e favorendo il benessere. Il suo aroma risveglia i sensi e ispira un viaggio di esplorazione interiore e risveglio spirituale, offrendo conforto e ispirazione. Il latte di cocco, con la sua ricchezza cremosa e nutrienti, offre conforto all'anima e nutrimento al corpo. La sua consistenza vellutata e dolcezza leniscono e ricordano l'abbondanza che ci circonda. Il latte di cocco, ricco di trigliceridi a catena media, supporta la salute del cervello e il metabolismo, riducendo il rischio di malattie neurodegenerative e aiutando nella gestione del peso. Integrandolo nei rituali quotidiani, si onora la sua essenza nutriente e si abbracciano i principi zen di gratitudine e consapevolezza. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio di scoperta e illuminazione. Possa la tua tazza essere riempita con la dolcezza della serenità e il tuo cuore sollevato dalla saggezza dei secoli. Fino al nostro prossimo incontro, possa tu percorrere il sentiero della consapevolezza con grazia e facilità. Lascia un like e iscriviti al canale. Nel frattempo resta curioso, resta saggio e resta positivo.